Puoi avere tutte le ricchezze del mondo, ma se non hai sincerità, umiltà e onestà, non hai niente. Sai, gli occhi sono sempre più coraggiosi della bocca. C'è chi ha tutto e piange per una cosa che non è riuscito ad ottenere. E c'è chi non ha nulla, ma sorride e ringrazia ogni giorno per la cosa più preciosa che ha, la vita. Sai, la famiglia non è una questione di sangue. È questione di chi ti tiene la mano nei giorni in cui ne hai più bisogno. Una lacrima non dimostra la fragilità di una persona, ma la grandezza del suo cuore. Ci sono quattro cose che non devi fare mai. Uno, non tradirlo mai a fede in te. Due, non lo deludere. Lui crede in te. Tre, non farlo piangere. Vive per te. Quattro, non lo abbandonare. Ti mancherà. Grazie mille per restare con JustFanIwal. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie. Restate bene. Ciao. Ciao.